Molto spesso quando ascolto una musica sento che il mio corpo vibra in una maniera diversa. Ecco, questo è quello che è successo quando ho ascoltato per la prima volta Voila, un brano di Barbara Pravi che è stato cantato da queste interprete nel 2021 all'Eurovision Contest. È una melodia veramente bellissima, una vera e propria chanson che parla della speranza, parla dell'affermazione di se stessi. È praticamente la storia di un artista che ha deciso di pensare a se stessa e che quindi in qualità di donna e di persona decide di seguire i propri sogni e la sua strada. Inevitabilmente è anche una storia d'amore perché accanto ad una donna c'è anche un uomo. Un uomo che, proprio per la decisione che ha preso la donna, sta per essere praticamente abbandonato. È una riflessione su come molte donne possono affrontare la propria esistenza, possano non accettare la rinuncia ma possano portare avanti la propria libertà. L'ho scelta per questa coreografia perché probabilmente ritrovo in essa una motivazione particolare, anche personale. e ho scelto come interprete l'eleva Mirema Munori per la qualità del movimento che ha acquisito nel corso degli anni e per la potenza muscolare. Buona visione! Grazie a tutti!